Let's play Oh, non ho capito la scena C'è Doc in un angolo minacciato da un arco Dai fuoco caso di nuovo, piatti Scappato Scappa, scappa, scappa Guarda che sta dando fuoco caso Ancora Che dobbiamo finire il video Va bene ragazzi In qualche modo vi giuro che lo finiamo questo video Continuiamo pure Insomma, avete capito, siamo ancora qui Aspetta, forse il fuoco si spegne con le frecce No, non funziona Madonna Aspetta, brucia il resto della mappa Dobbiamo arrivarci ancora lì Ok Allora, dobbiamo andare nel passato del Grinch Io direi È andata via la lana È andata via la luce Eh, va bene, c'è più casa La ex casa del Grinch Ma avete visto sopra che sono i funghi? Io non vedo niente fra un po' se continui a bruciare Ascolta, ma questa non è una residenza estiva Direi che qui d'estate non dura un secondo No, infatti No, ma sono le altre temperature che fanno bruciare le case Io vorrei dire anche una cosa Con che cazzo di materiale l'hanno fatta sta casa? Brucia in un secondo Non lo so Anche la casa l'IKEA Posso andare avanti con la storia We do restore the town Non ho capito un cazzo, ragazzi Mi sto washottando botta a botta Ragazzi, io ho paura di uscire di qua Mi sta dipando a lui e mi washotta Se poi mi ritippa a lui e mi washottare No, no, ascolta Ho un arco con potenza 10 Ma cosa abbiamo capito da quella casa? Che petta, eh La petta, ragazzi Tu cazzo Ah, mi sa che dobbiamo andare dal Grinch E dire di non distruggere la città Andiamo Ah, ok Ma non eravamo noi quelli che volavamo distruggere la città E siamo diventati il fratello improvvisamente Non si può distruggere più Ah, che ho trovato una camera Ho trovato una camera Ma, scusate Nascosta Ma siamo tornati indietro No, no Però a me sembrava la stessa cosa Invece no Ah, 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 ah Ti, ti infronto, l'ho presa Ah, ah, ah Questa non la bruciare Se non avessimo bruciato niente, ragazzi Avevamo quell'impressione Non ho fatto così, capito? No, fermo No, 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 no Ragazzi, stiamo sminchiando tutto il segno C'è un problema C'è un problema C'è gente fuori Eh, salve Oddio Tutti Sono brutti Ma, allora C'è, sono brutti Ma, allora Noi stavamo in una città Che era come questa E ci siamo recatapultati Nel prima No, perché praticamente Ah, ho capito Siamo tornati indietro Che non dobbiamo distruggere più l'albero È come se avessimo fatto un rewind Ok Secondo me Questi sono i tempi Quando c'era Il Grinch era ancora cattivo Quando c'erano ancora gli abitanti Della città Andavamo tornati molto indietro Ah, e tipo abbiamo fatto un flashback Eh, l'avevo detto che era un rewind Sì Però noi Noi diciamo che ce ne siamo accorti Perché abbiamo bruciato tutto Quindi Si nota bene Si vedeva Ok Noi loro lo facciamo fatto bene Mi prendo un altro accendino Non si sa mai C'è un nuovo albero Si tengono mano per mano E le loro canzoni Riempiono l'aria E si sentono ridere Riempiono l'anno Ci stavamo Praticamente hanno di nuovo gli amichetti Stanno tutti belli contenti Ragazzi c'è un Grinch lì Ragazzi abbiamo finito l'avventura Che fine di merda Merry Christmas Minecraft Ron Smalek Ragazzi abbiamo finito l'avventura Ma cosa? Finisci di leggere Oh aspetta Chiama il Grinch Questo è quello che non avresti dovuto fare Questi Queste monete che hai collezionato Cominciano in Ryu Perché ci sono ancora Grinch in giro? And they just aren't Non sono giuste Smelt them insieme Dobbiamo metterle insieme ragazzi Per far qualcosa And to all Dire a tutti buonanotte L'ho capito un cazzo L'ho capito un cazzo Ragazzi dobbiamo prendere tutte le nostre monetine Le dobbiamo mettere insieme Le dobbiamo fondere Penso qui dentro Oh si si bruciano Mettetele qui dentro Mettetele qui dentro Si trasformano No non rubatele Mettetele lì dentro Ma cosa diventano? Non lo so La pia Hacon Io non c'ho niente Doc Stai distruggendo la mappa Te lo dico Ma l'ha fatto Eh Non c'è che sta distruggendo la mappa No aspetta Facciamo un conteggio Chi ha vinto Chi ha più monete Manastera di Natale Oh Ah si mattoni Ma che belle Uuuuh Uuuuh In pratica Il tuo punteggio finale Lo devi mettere nel forum E guardare il video youtube con la cinematica Guardate quante le ho messe dentro Che cazzo dove le hai prese tutte queste qua Eh in giro Ma guarda che lui le prendeva tutte Ragazzi qua si rimane bloccati se provate guardate Non si possono staccare Eh molte no Sono tipo 5-6 tipi diversi Eh Va bene ragazzi qui c'è un altro slettino No problema Abbiamo fatto tutto È perito il Grinch qua fuori Dove è andato il Grinch? Non era qui un Grinch scusa Ma ce n'erano 3 Grinch Vabbè ma dobbiamo aspettare che si smettano Era qua il Grinch Sono sicuro Era qua in piedi Dov'è? Eccolo E qui Cazzo 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 Un altro C'è una linea dritta sottile È perché è dimagrito C'è un Grinch dimagrissimo Vedo un disturbo in mezzo allo schermo Mezzo verde e mezzo rosso Il Grinch Perché lei signor Grinch Se lo faccia dire ha uno sguardo Ok Vabbè ti porto a casa Ok andiamo a rovinare il Natale prossimo Non parlare come Light Grazie Va bene ragazzi Io direi che siamo arrivati alla fine E siamo arrivati anche alla fine di questi giorni natalizi No ma non è finito Come no? No di qua ci sono delle rotaie Dove? Qui dove sto io? Dove stai? Qua perché state in creativa voi? Non stiamo in creativa Io sì Io sono io Comunque questa mappa abbiamo violato ogni tipo di regola Ha ragione aspetta ha ragione C'è le scalette vieni qua Ah di qua C'è un modo per Ecco il vero Guarda Io pure c'è il kart Ci sono delle Oh Oh Che dice qua? Who? Herding Ragazzi però mi ero rotto le palle di tradurre No eh Dobbiamo continuare Va bene Andiamo Su Youtube Aspetta Ciao Ah What? C'è un problema Scendi Non scende più Non posso più scendere Mi hai toccato qui Sono rimasto bloccato Ragazzi Che vita di merda È un troll Sta mappa è un troll Comunque Ma c'è un corridoio Comunque siamo riusciti a finirla In qualche modo In qualche modo è anche finito il Natale Io vi ringrazio per aver seguito questa mandria di sciroccati Che stanno qui insieme a me Non stanno più insieme a me Mamid C'ho un'ultima cosa Ultimissima Te lo prometto Qui c'è il mio legno preferito Guarda che bello questo legno Guarda che bello questo legno No Come hai fatto a scoprire che la TNT Te la sei cipata Va bene ragazzi Se vi è piaciuta questa serie Se vi è piaciuto vedere questi tre deficienti Che hanno fatto solo i coglioni Ti sei contato anche a te Ti sei contato Mi metto tra i deficienti Perché facevo finta di tradurre Lasciate un like Commentate e condividete Non l'ho detto Ma ricordatevi di passare dai canali Di questi due scemi E ci vediamo l'anno prossimo Con Davids Con Doc Con altri episodi Intanto Ciao a tutti Mirabolanti Ah Se siete arrivati fin qui Scrivete Hashtag Il Natale non è rovinato Hashtag legno esplosivo Ok Scegliete voi un hashtag A caso Legno esplosivo Ciao a tutti Ciao ragazzi Ciao a tutti 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 Grazie.